Mettiamoci al lavoro, dobbiamo preparare la gelatina di mele. Che cosa ci occorre? 2 kg di mele, renette, 3 limoni, di produzione biologica è meglio, zucchero, quanto basta, poi vi dirò quale sarà il peso esatto, ma dopo. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a tagliare le mele in quattro e a levarle un po' nel torsolo. Le mele non le sbucceremo perché per fare la gelatina ci serve la buccia, perché? Perché quello che ci occorre per far addensare in gelatina il succo di mele è la pectina, che si trova in realtà sotto la buccia. La pectina è una sostanza che troviamo anche negli agrumi, molto nelle arance e nei limoni. Ecco anche perché si consiglia sempre di utilizzare la frutta di coltivazione biologica per avere una buccia estremamente pulita e priva di qualsiasi sostanza nociva. Ecco, questa è una quantità sufficiente. Andiamo a levare un po' il torsolo. Possiamo anche tagliare in un'ennesima metà. Le andiamo a sbollentare per far sì che la mela diventi morbida e successivamente le andremo poi a mettere in un colino con una rete molto fitta, si chiama tripla rete, oppure se avete delle garze di lino o vecchi canovacci di cotone con una trama molto fitta, potete anche mettere a filtrare le mele che avete già fatto bollire lì dentro, facendolo sgocciolare sopra un recipiente di questo tipo, di questa dimensione, in modo tale che il succo filtra piano piano attraverso la garza o la trama del vostro colino, senza pigiare, perché se da una parte andate a pigiare, uscirebbe sì più succo, ma si va a creare una densità troppo torbida poi del succo della mela. Quindi lo lasciate semplicemente sgocciolare, anche una notte se è necessario. Soprattutto dobbiamo stare attenti quando leviamo il torsolo che non ci sono i semini. Quando abbiamo tagliato le mele in quattro, è importante subito bagnarle con un po' di soluzione di acqua e limone, in modo tale che non diventano nere. Quindi possiamo anche prendere subito un limone, tagliarli all'estremità, e spremerlo così sopra e aggiungere poi un po' di acqua. Ecco qui, abbiamo messo dell'acqua con qualche goccia di limone per non far annerire le mele. E visto che la superficie è priva di questa soluzione di acqua e cidola, ci mettiamo un panno di carta in modo tale che rimangono coperte e non si ossidano all'aria. Andiamo a accendere il nostro fuoco. E ora andiamo a mettere le nostre mele nella casseruola. Senza acqua, soltanto le mele. Adesso dobbiamo riempire la pentola con dell'acqua fredda anche e coprire le mele. Non completamente, non si devono lessare. L'acqua deve essere sufficiente per coprire i tre quarti della quantità di mele. E non di più. E aspettiamo il tempo necessario. Ecco, questo è il risultato delle nostre mele dopo una cottura più o meno di 10-12 minuti al massimo. Si devono ammorbidire quanto basta. Le andiamo a mettere nel nostro collineo e le faremo sgocciolare quanto basta per avere il nostro succo. Ecco qui, è un'operazione che dobbiamo fare con molta calma, senza pigiare. Le lasciamo così nel loro colino e aspettiamo che tirano fuori tutto il succo necessario per la nostra gelatina. Ecco, finito. Le lasciamo qui a sgocciolare fino a quando le mele non hanno rilasciato tutto il succo necessario per la nostra gelatina. Ricordatevi di non avere fretta. Questo è il risultato, dopo più o meno 6 ore, del succo che hanno rilasciato le nostre mele. Ecco qui, lo vedete? Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pesare il succo delle mele e aggiungere una quantità pari o minore della metà del succo ottenuto. Quindi prendiamo la nostra bilancia e vediamo quanto pesa il nostro succo. Quasi mezzo chilo! Wow! Tantissimo! Fodereremo una fantastica crostata con questa gelatina di mele. Allora, quindi 250 g di zucchero è la quantità necessaria per la nostra gelatina. Un altro po'. Ecco qui. Ora possiamo mettere il composto in una piccola casseruola e farlo cuocere. Ecco, spegniamo il fuoco. Questa è la giusta densità. Quindi non c'è un tempo stabilito di 10, 15, 12 minuti. Quindi dovete avere uno sciroppo di zucchero. Quindi lo zucchero si è sciolto nel succo della mela e questo vuol dire che la gelatina è pronta. Poi ovviamente si addenserà nel proprio vasetto che avete sterilizzato precedentemente. Vi ricordate come si fa? Guardate! Ora siamo pronti per mettere quindi a caldo il nostro sciroppo di succo di mele e zucchero. Prendiamo un mestolo e lo mettiamo nel nostro barattolo. La gelatina di mele a che cosa ci può servire? È utile per foderare la crostata? Oppure per metterla in superficie e per decorarla con la frutta secca? In questo caso ho un barattolo con un tappo non a chiusura a vite. Abbiamo una guarnizione in gomma che proteggerà la nostra gelatina. Mettiamo i ganci lateralmente. Abbiamo così chiuso ermeticamente la nostra gelatina. La facciamo raffreddare a temperatura ambiente e aspettiamo prima di riporla nella nostra dispensa sempre in un luogo fresco e asciutto e senza luce. Pensavate di aver finito? Ancora no! Allora abbiamo la confettura di carote che ha un colore bellissimo quindi io direi di coprirla poco. È talmente già così bella! Mettiamo intanto l'etichetta, scriviamo la data di nascita e che cos'è. Confettura di carote, bellissima! Ha un colore veramente brillante, splendido! Quindi io direi di coprirla soltanto con un nostro spago o magari con un bel nastro. Che ne dite di questo bel verde? Direi di sì! Abbiamo anche l'etichetta con la riga verde. Mettiamoci questo intorno. Ricordatevi sempre di fare il taglio obliquo. È più elegante. E la prima è andata. Poi abbiamo questo barattolo molto bello che era la gelatina di mele. Direi di mettere, di mettere un pezzettino di stoffa. Questa con i fiorellini la rendiamo un po' più vivace. Vediamo quant'è il diametro del tappo. Ok. Ecco qui. Va bene, no? Un'etichetta piccolina perché il barattolo è piccolo. Mele. Ho scritto solo mele. Ricordiamoci che è una gelatina, ma tanto si vedrà. Che ne dite, così? Farete dei figuroni. E poi avete visto quanto è semplice. Abbiamo finito quella di mele. Adesso ci mancano i piselli. I piselli hanno un barattolo molto grande. Questi sacchietti del pane direi che sono molto indicati per il nostro barattolo. Dobbiamo metterci un bel nasso scozzese. O ci vogliamo poggiare sopra la nostra aiuta. Io direi di mettere questo bel colore verde brillante. Ok. Mettiamoci lo spago. E abbiamo finito il nostro ultimo barattolo. Qui metterei un'etichetta molto grande perché il barattolo lo è. Eccolo qui. Abbiamo spazio a sufficienza per scrivere l'intero. Pisellini in salamoia. Usate anche una calligrafia romantica quando scrivete le vostre etichette. Dovete dare il meglio della vostra creatività. Ed ecco qui. Abbiamo terminato anche il nostro ultimo barattolo. Iscriviti al nostro canale.